Se stai pensando di acquistare un'ottica da 85 mm, sei nel posto giusto. Nel corso del video di oggi andrò a raccontarti tre motivi per cui questa è un'ottica meravigliosa da avere con noi nel nostro zaino fotografico. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo di fotografia professionalmente da tanti anni. Ho acquistato di recente il mio primo 85 mm f1.4. Io prima avevo già delle ottiche in grado di scattare a 85 mm, però erano degli zoom, quindi avevo magari il 24-105 con cui potevo scattare a 85 mm, però erano 85 mm da f4. Quindi la questione cambia e non di poco. Nel corso di questo video andrò a dirvi secondo me dov'è che quest'ottica riesce veramente a brillare, ma prima vi invito come sempre a iscrivervi al canale perché io vedo che molti di voi, anche chi mi commenta regolarmente, non è poi iscritto al canale. Ragazzi, iscrivetevi subito perché così a me date un segnale che questi contenuti vi piacciono e voi non vi perdete più i contenuti che tanto vi stanno piacendo. Partiamo con il primo motivo, tralasciando la costruzione ovviamente che in questo caso è superlativa ed è un vetro meraviglioso, però qui dipende anche da quale 85 mm compriamo perché ci sono anche quelli di fascia più bassa. Quindi passiamo subito alle motivazioni qualitative sulle singole foto. Il primo motivo per cui secondo me questa è un'ottica che vale la pena avere è lo sfocato. Abbiamo a che fare con un'ottica che ci regala uno sfocato molto bello, molto gradevole, quindi se scattiamo a tutta apertura abbiamo una grandissima precisione di messa a fuoco, lo dico nonostante lo stia utilizzando su una Canon EOS 5D Mark II, quindi una fotocamera che non brilla per autofocus, diciamocelo pure. Eppure devo dire che gli scatti che io sbaglio con questa combinazione, dove sbaglio la messa a fuoco, dove la macchina sbaglia la messa a fuoco, sono veramente pochi. Quindi da un lato abbiamo una precisione abbastanza notevole, dall'altro abbiamo uno sfocato così gradevole che siamo in grado di fare fotografie anche in contesti complicati, anche in contesti dove c'è disordine sullo sfondo. Vedete lo sfondo che c'è dietro di me? È disordinato perché comunque è un ufficio, ci sono delle cose sempre in movimento, delle robe che vengono appoggiate sui tavoli, però sfocando lo sfondo sembra tutto più ordinato. Questo è un esempio di come lo sfocato può giocare a nostro favore se noi facciamo delle fotografie in contesti magari anche dinamici, un'ottica come questa sicuramente ci aiuta perché mettiamo a fuoco quello che ci interessa, tutto il resto rimane sfocato sullo sfondo e non ci accorgiamo più del disordine. Un altro motivo per cui adoro quest'ottica è la prospettiva che restituisce. Chiaramente essendo un 85 mm è pressoché privo di distorsione. Questo significa che sarà più difficile avere deformazioni prospettiche, sarà molto difficile avere delle proporzioni sgradevoli. Quando facciamo ritratto, e questa è un'ottica pensata prevalentemente per ritratto, lo ammetto, quando noi facciamo un ritratto con un 85 mm è impossibile avere delle proporzioni sgradevoli. Avremo sempre i lineamenti più gradevoli possibili perché quest'ottica è pensata proprio per quello e ci restituisce un look dove le persone ritratte sembrano più belle, sembrano e si sembrano più belle, quindi si piaceranno di più. Le persone ritratte tenderanno ad apprezzare maggiormente delle fotografie che gli sono state fatte con un 85 di quanto non apprezzeranno delle foto che gli sono state fatte con un 24 o con un 35. Garantito. Un'altra cosa da tenere a mente, ovviamente, è che una grande apertura ci consente di scattare anche in condizioni di illuminazione sfavorevoli senza utilizzare illuminazione addizionale. Questo cosa significa? Io vado a fare un servizio fotografico presso un atelier di un cliente con un'illuminazione fioca, con un'ottica come questa io sono in grado di catturare quell'illuminazione fioca anche senza portarmi il flash, anche senza portarmi luci in più. Questo può essere un bel vantaggio perché tenete conto che magari io avrei scattato comunque a f1.4 perché comunque volevo quell'effetto sfocato, quindi non sto facendo un sacrificio, non sto tenendo aperto il diaframma perché mancava luce, lo sto facendo perché mi piace. Però ottengo il duplice vantaggio che riesco a fare delle fotografie anche in un contesto non propriamente illuminato e anche senza portarmi dietro tonnellate di luci supplementari in più. Ora vi dico un paio di situazioni applicative dove ho trovato riscontro con quest'ottica e dove mi sono trovato molto bene. Innanzitutto ritratto in location, quindi quando ci troviamo a fare ritratto in un luogo arredato diciamo, quindi senza un backdrop, senza una situazione preparata ma con un fondale come quello che vedete qui da me, un fondale reale, un'ottica come questa può esserci molto d'aiuto e io l'ho utilizzata, ho utilizzato un'ottica con una grande apertura in uno shooting per TikTok Italia che poi è stato pubblicato anche su un magazine di cui, mannaggia non mi ricordo il nome, magari ve lo linko da qualche parte, abbiamo utilizzato un'ottica di questo tipo che era sempre una canon serie L, il vantaggio è che noi abbiamo la profondità che ci viene data da uno sfondo reale però lo andiamo a sfocare tirando fuori il nostro soggetto, quindi noi decidiamo che cosa vogliamo mettere a fuoco, su che cosa vogliamo l'attenzione massima del nostro osservatore in un contesto comunque arredato, un contesto arredato fa più effetto di un contesto finto, uno sfondo finto rimane tale, è uno sfondo finto mentre un contesto arredato, un contesto vero, materico fa tutto un altro effetto in una fotografia di ritratto ambientato, quindi abbiamo un effetto sicuramente diverso però riusciamo a isolare il nostro soggetto e a tirarlo fuori, a fare in modo che sia inequivocabile dove deve andare l'attenzione del nostro soggetto. Un altro contesto in cui mi sono trovato molto bene a scattare con quest'ottica è fotografia di prodotto ambientato e voi giustamente direte cavolo, fotografia di prodotto bisognerebbe metterlo più o meno tutto a fuoco, non dovrebbe avere parti sfocate, sì è vero, però esistono dei contesti in cui la fotografia deve essere più emozionale, più evocativa che descrittiva perché magari il cliente ha già i render del suo prodotto sul sito e quindi non gli interessa quel tipo di fotografia, vuole delle fotografie del suo prodotto ambientato che creino emozione, che creino trasporto. In questo caso questa è un'ottica meravigliosa perché ci permette di di nuovo mettere a fuoco dove vogliamo con estrema precisione e avere però un look molto cinematografico per la nostra fotografia in maniera tale che sì, fotografiamo il prodotto ma lo ambientiamo anche in una maniera estremamente gradevole e di nuovo isoliamo il nostro prodotto e il nostro soggetto da tutto il resto del contesto. E siamo arrivati alla parte che molti stavano aspettando, ovvero le cose invece che non mi piacciono di quest'ottica. Perché sì, ce ne sono, ci sono anche delle cose che non mi piacciono. Tra queste non metto il prezzo perché il prezzo di quest'ottica secondo me era giusto, anzi io ho già fatto un video in cui ne parlavo. Io quest'ottica l'ho pagata meno di quello che costava, credo di averla pagata 1200, non mi ricordo più, l'ho pagata 400 euro meno di quello che costava di listino nuova, quindi sono anche contento. Le cose che però non mi piacciono, la cosa in particolare che non mi piace di quest'ottica è la distanza minima di messa a fuoco, ovvero mi piacerebbe potermi avvicinare di più a quello che sto fotografando. Invece quest'ottica ha una distanza minima di messa a fuoco che è di 85, quindi io devo stare piuttosto lontano dal mio soggetto per poterlo mettere a fuoco correttamente. Questa è una cosa che non mi piace, io avrei preferito potermi avvicinare di più, sarebbe quindi diventata un'ottica macro, cosa che assolutamente non è. Esistono degli 85 mm che fanno anche macro e in quel caso avreste i vantaggi di entrambi i mondi. Nel mio caso io ho detto tanto io ho il 100 mm se devo fare macro e va bene così, quindi questo va benissimo che non ce l'abbia, però è una cosa che ogni tanto vorrei, ogni tanto mi capita di andare troppo vicino e non mi mette a fuoco perché non mette a fuoco a quella distanza allora mi ricordo e devo fare un passettino indietro e questa è una cosa che non mi piace. Un'altra cosa che a me non è che non piace, io mi trovo benissimo però ve la segnalo, è il peso ragazzi perché questa è l'ottica più pesante in assoluto in mio possesso. È molto grande in virtù dell'apertura massima che deve garantire, è un'ottica veramente veramente molto pesante. Per me è una grandissima soddisfazione tenerla in mano non mi pesa assolutamente, però riconosco che è molto più pesante di altre ottiche e può creare dei fastidi soprattutto per chi magari è un po' più gracile. È un'ottica sicuramente con un peso che si fa sentire e a fine giornata la sentiamo sulla schiena. In coda vi segnalo che quest'ottica ha anche ulteriori pregi perché se da un lato è vero che scattando a tutta apertura abbiamo comunque una bella nitidezza, abbiamo comunque uno sfoccato meraviglioso, è vero anche che su un'ottica di questo tipo noi possiamo anche chiuderlo il diaframma e se chiudiamo il diaframma otteniamo su quest'ottica una nitidezza maggiore piuttosto che su ottiche zoom utilizzate a 85 mm. Se noi andiamo a chiudere quest'ottica a f 5.6 per esempio e andiamo a scattare a 85 mm a f 5.6 su quest'ottica avremo una nitidezza migliore, un microcontrasto migliore piuttosto che su una lente zoom utilizzata a 85 mm con lo stesso diaframma. Quindi i vantaggi costruttivi sono anche questi, un'ottica prime ha meno lenti, non ha parti basculanti che devono andare a zoomare quindi ha una precisione maggiore e si spera una costruzione più compatta. In questo caso pesa più questa di uno zoom ma vi assicuro che ne vale la pena. Detto questo amici io non mi dilungo oltre ma vi ricordo di iscrivervi al canale perché parleremo ancora di queste e di altre ottiche in altri video successivi. Fatemi delle domande se ce le avete, avete domande su quest'ottica specifica o su altre ottiche anche di altre case. Provate a chiedermelo, le altre ottiche io non ce le ho però se posso rispondervi vado a informarmi e vi do la risposta anche sotto forma di shorts verticale per cui iscrivetevi e mettetemi un bel like così mi fate capire che questo tipo di contenuti continua a piacervi. Detto questo io vi ringrazio per aver passato un po' del vostro tempo con me e io e l'85 mm vi diamo appuntamento al prossimo video.